Si aggiornano i numeri del coronavirus in Puglia. A fornire i dati relativi all'andamento della pandemia è come sempre il bollettino epidemiologico regionale, che oggi lunedì 20 giugno segnala 1.433 nuovi casi accertati a fronte di 5.876 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari al 24,5%. Anche stavolta è Bari la provincia più colpita, con 435 contagi, seguita da Lecce con 278, Foggia 269, Labat con 183, Taranto 130 e Brindisi 114, ai quali vanno aggiunti casi di 20 residenti fuori regione e 4 di provenienza non ancora accertata. La somma dei contagi pugliesi dall'inizio della pandemia tocca così quota 1.163.666. Si aggrava purtroppo anche il bilancio dei decessi, con un'ulteriore vittima registrata e che porta il totale dei morti a 8.581. Continua a salire, ormai da diversi giorni, la curva degli attuali positivi, che oramai hanno superato la soglia dei 25.000. Parallellamente si assiste invece ad un lieve calo dei ricoveri. I pazienti covid che si trovano nelle strutture sanitarie pugliesi sono ad oggi tutto 225, di cui 218 ricoverati in area non critica e 7 in terapia intensiva. Nuovo deciso scatto in avanti infine dei negativizzati, che raggiungono la cifra complessiva di 1.129.990, con oltre 600 guariti dal virus nelle ultime 24 ore.